No! Guarda che entrata! Posa meglio! No! No! Facci di pippo ladro! Mamma mia! 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 Ciao Corradone, ciao! Non l'avevo riconosciuto Lillo perché poi i culturisti sono tutti uguali tutti un metro e novanta, tutti con le spalle larghe tutti con i pettorali Secondo me Guzzanti non resiste Anche perché mi sa che sono molto amici Lillo e Corrado Ciao Virgi! Virgi! Guardami! Virgi guardami! Cioè tu già hai nove persone che cercano di farti ridere poi ti giri e entra Posaman Maledizione! Sono stato preso negli Avengers quindi ho sviluppato le nuove pose per interagire con loro No, questo non ce la faccio Tipo... Uno di voi lo può fare Capitano America uno anche te, forse La cosa tipica che dice sempre Capitano America Tipo... Posaman... Loro sono in trenta noi siamo solo in due ma insieme ce la possiamo fare Andiamo! Posaman! Loro sono in trenta noi siamo solo in due Andiamo! Ecco, adesso muoio e tutto andrà bene Sta indicando dove No, sta volando Poi c'è che ne so, Occhio di Falco invece una frase tipica sua è Posaman! Posaman! La situazione è critica che facciamo? Posaman! La situazione è critica che facciamo? Che ora sono Posaman? Cinque e un quarto Posaman, dove è il bagno? Fondo a destra E mi sono morsa le guance per non ridere Posaman, dove sono le uscite di sicurezza? Rosso, 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 rosso! Ago! Ago! Perch traditionally La storia di provittor Cora qionsa Loro! Cora qia! Grazie a tutti.